Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Un cordiale saluto, bentornati all'appuntamento con il meteo di TV6. Una nuova perturbazione atlantica raggiungerà l'Italia nel corso di questo mercoledì 6 aprile. Porterà fenomeni dapprima sul centro Italia, in particolare sul lato tirrenico, a seguire sul versante adriatico e al sud. Le piogge più interessanti coinvolgeranno la Sardegna, il Lazio, la Toscana e la Campania, ma un po' di pioggia arriverà anche su Umbria, Marche e Abruzzo. Giornata quindi perturbata, al mattino ancora cieli poco nuvolosi e clima tutto sommato gradevole, ma tra pomeriggio e sera avanzeranno le precipitazioni più insistenti nelle aree interne e sui monti, un po' più sparsi e irregolari, alle basse quote, lungo le coste, soprattutto in serata. Le temperature grossomodo stazionarie massime tra i 10 e i 15 gradi, minima il lievamento tra 1 e 6 gradi. La quota neve arriverà attorno ai 1700-1800 metri. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni. Realizziamo i tuoi sogni.